Sapevi che il maschio pensa con il pene? E non dire che non è vero. Per nutrire la materia grigia maschile quindi bisogna in realtà prendersi cura del suo guerriero calvo. Sto parlando di accudirlo quasi come se fosse una delicata piantina bisognosa di nutrienti specifici. E quali sono questi ingredienti per il nostro valoroso combattente? Primo su tutti abbiamo l'arginina, una sorta di spinaci per braccio di ferro, ma per il pene. Questo aminoacido è il turbo che ogni guerriero calvo sogna, aiutando a migliorare il flusso sanguigno nelle terre lontane e garantendo che tutto sia alzato e pronto. Questo è possibile perché l'arginina è precursore dell'ossido nitrico. Poi c'è un cocktail di vitamine B, C, D3 e K2 che sono tipo gli Avengers dei nutrienti che lavorano insieme per mantenere il sistema al top delle sue capacità. Ma ecco la parte cruciale, questi eroici ingredienti devono marciare insieme per massimizzare l'effetto. E come li uniamo in questa gloriosa battaglia? Attraverso bustine solubili in acqua. Sì perché gettare ingredienti a casaccio nella bocca del tuo guerriero calvo non è la stessa cosa che nutrirlo strategicamente con una soluzione che entra in circolo più velocemente, garantendo che ogni nutriente sia assorbito al meglio e senza indugi. E per comodità ti lascio un integratore completo di tutti gli ingredienti citati, perfettamente dosato e adeguatamente formulato sul link nel mio profilo.